Sfida playoff, quella in programma sul sintetico di Cugnoli, è valevole per il nono turno di andata del girone B di promozione. Evento quasi inimmaginabile fino a pochi anni fa, ma che adesso vede protagonista la matricola terribile di Mr. Fusco, che dopo un inciampo burocratico di inizio stagione, si è perfettamente acclimatata alla nuova categoria e adesso può guardare negli occhi anche formazioni altolocate e con un passato di tutto rispetto, come ad esempio l'Alba Adriatica, che arriva a Cugnoli con l'intento di rimpinguare il proprio bottino e stazionare in maniera perentoria nel gruppetto delle migliori. Ma anche i padroni di casa, come detto, possono permettersi di sognare in grande ed hanno ovviamente uguali ambizioni. I cugnolesi arrivano all'importante appuntamento odierno dopo il buon parigio esterno con la Rosetana, stesso risultato conseguito dai ragazzi di Mr. Lazzarini nell'impegno interno con il Mosciano. Buona partenza della truppa cugnolese, insidiosa già al quinto sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina di Mascio Vecchio, sul quale prova ad intervenire il suo gemello d'attacco Di Nardo, decisiva all'opposizione della retroguardia al Bense, che sventa la conclusione ravvicinata del numero 10 di casa. Pochi secondi dopo Di Lorenzo appoggia in area per Di Properzio, che si sistema per la battuta e spedisce la sfera in fondo al sacco, ma la terna arbitrale non convalida per una posizione irregolare del numero 11 cugnolese. E se la rete dei padroni di casa non entra ufficialmente nella storia della contesa, è l'Alba Adriatic a timbrare il vantaggio pochi secondi dopo grazie a Bangura, che infila alle spalle di Capone con un velenoso diagonale dalla media distanza che non lascia scampo all'estremo rivale. I ragazzi di Mister Fusco non accusano cali di tensione e si prodigano immediatamente per ristabilire un risultato favorevole. E in effetti dopo il tiro prevedibile di Mascio Vecchio, che termina docilmente tra i guantoni di Abate, arriva alla rete del pareggio cugnolese firmata da Coletti, abile a raccogliere l'invito dal fondo di Di Nardo e ad anticipare il diretto controllore Vagnoni per una conclusione da distanza ravvicinata che non lascia scampo all'estremo al Bense. Abate rischia poco dopo sullo spiovente da fermo di Mascio Vecchio, ma l'appostato di Rosa non riesce ad approfittare della respinta dell'estremo ospite. Parentesi rosso-verde al diciassettesimo, ma Capo Casa non riesce ad intervenire sullo spiovente dalla sinistra di Bangura, controllato piuttosto agevolmente da Capone. Il cugnoli allontana la sfera dalla propria zona difensiva e va a caccia del sorpasso che sfiora in due occasioni. Nel primo caso Abate interviene con decisione per arpionare il temibile diagonale dalla destra di Di Properzio. Successivamente Di Nardo sparacchia le ortiche, sciupando l'inaspettato regalo che gli offre Montecchia, che cerca di allontanare dalla propria area l'insidioso spiovente dalla sinistra di Di Lorenzo. I ragazzi di Mister Lazzarini cercano di replicare con il sempre mobilissimo Bangura, che crea scompiglio dalla sinistra. L'intervento difensivo dell'onipresente Di Lorenzo è particolarmente rischioso ma efficace, evitando in tal modo il possibile tapin ravvicinato della corrente Antonacci. Un minuto dopo Simone Sammacicce e Capone hanno il loro bel da fare per arginare Capo Casa, che poi riesce a rialzarsi e a sferrare un nuovo attacco alla porta cugnolese, ma Capone risponde presente ed evita guai peggiori. Il cugnoli si rivede alla mezz'ora, con la rovesciata in area di Coletti, che costringe Abate ad un difficile intervento per smorzare la sfera sul fondo. Sull'altro versante gli albensi tornano a pungere in due occasioni prima dell'intervallo. Nel primo caso Capone è reattivo per chiudere sul primo palo e dirottare a lato il temibile fendente da fermo di Capitan Passamonti. Quattro minuti dopo e Bangura creare scompiglio con Capone, che riesce ad allontanare la sfera anticipando il possibile intervento ravvicinato degli appostati Capo Casa e Aloisi. Prima dell'intervallo si rivedono i padroni di casa con lo spiovente da fermo di Mascio Vecchio, che crea scompiglio dalle parti di Abate, ma la retroguardia albense limita i danni e certifica la chiusura del primo atto sul risultato di perfetta parità. Il cugnoli riparte all'offensiva con l'ottimo fraseggio che da Di Nardo passa per Mascio Vecchio e poi sul traversone al centro di quest'ultimo la retroguardia albense riesce a salvarsi con affanno anticipando il possibile intervento ravvicinato della corrente Coletti. L'alba respira e si porta a sua volta all'offensiva con la provvidenziale uscita dai pali di Capone che chiude lo specchio della porta a Bangura. Se l'estremo cugnolese preserva, il compagno di squadra di Nardo va subito dopo a completare la rimonta dei suoi, infilando nel sacco con un puntuale stacco aereo che sfrutta la pennellata dalla sinistra di Di Properzio e spedisce la sfera all'altezza dell'incrocio dei pali. Il cugnoli, che ha la concreta possibilità di arpionare il bottino pieno, va a complicarsi la vita nelle fasi successive, alla luce del cartellino rosso per somma di ammunizioni rimediato da Mascio Vecchio che costringe i suoi a giocare in inferiorità numerica nell'ultima mezz'ora di gioco. L'alba può approfittare dell'inaspettata superiorità, ma nell'immediato Capone non corre grossi rischi per intercettare lo spiovente dalla sinistra di Antonacci. Il cugnoli in dieci riesce addirittura ad essere pungente in contropiede con l'affondo dalla destra di Costantini che impegna severamente Abate costretto ad intervenire in due tempi. I rossoverdi sono pungente alla mezz'ora col siluro dalla distanza di Antonacci che si spegne di pochissimo sopra i legni di Capone, il quale non deve impegnarsi più di tanto al 34esimo per abbrancare la debole conclusione di Passamonti. Il cugnoli spara le ultime cartucce al 43esimo con il diagonale dalla destra di Di Properzio che Abate abbranca alla sua destra. Un minuto dopo i padroni di casa reclamano il penalty per un presunto atterramento in area ai danni di Alessandro Sammaciccia, ma le immagini non ci aiutano a dirimere la controversia. Ultimi assalti al Bensi nei minuti di recupero, ma la difesa cugnolese non corre grossi rischi e per la squadra di Mister Fusco arrivano tre punti pesanti per continuare a cullare sogni di grandezza. Al termine è una partita molto difficile con il cugnoli cui siete passati già dei primi minuti in vantaggio, poi qualcosa è andato storto. Com'è l'umore della squadra nello spogliatoio? Come l'avete commentata un po' a caldo? L'umore è deludente, come è giusto che sia. È preparata la partita nei minimi dettagli, tanto che va in vantaggio in un campo così difficile. Siamo stati attenti, tranne nelle due occasioni dei gol, tranne nei due gol presi su un fallo laterale e su una disattenzione difensiva. Quindi sono veramente arrabbiato e ancora non entro dentro lo spogliatoio perché non ci sto a perdere una partita così. Abbiamo creato oltre dieci occasioni da gol, non siamo stati cinici e in un campo così difficile non puoi permetterti di non sfruttare quelle occasioni che hai e soprattutto di concedere un minimo. Non lo puoi fare, non lo puoi fare. Noi dobbiamo crescere da questo punto di vista. La squadra ha impattato la gara in maniera eccellente però non basta perché siamo una squadra giovane, perché stiamo crescendo, dobbiamo crescere ancora di più e purtroppo ad oggi queste disattenzioni le stiamo pagando gare. Con il mister Del Cugnoli che è felicissimo per diverse ragioni. La prima per i tre punti pieni con una squadra difficile come l'Alba Triatica. e la seconda perché da due anni mantiene l'inviolabilità del campo, cioè qui non passa. Come avete commentato nello spogliatoio, questo 2-1 che stavate subendo ma poi avete subito pareggiato i conti e siete passati poi in vantaggio anche in dieci. Buonasera a tutti. Allora, devo dire che oggi i ragazzi hanno fatto qualcosa di incredibile. Siamo rimasti in dieci al, mi pare, sesto del secondo tempo. Secondo me è ingiustamente perché dare due ammunizioni nel giro di 40 secondi è difficile da vedere. però io alleno dei ragazzi che hanno un cuore straordinario. Mi emozionano, mi danno delle emozioni incredibili e solo una squadra con un cuore grande riesce a fare una prestazione del genere. Avevamo davanti una squadra forte. L'Alba Triatica ha fatto la storia del calcio abruzzese e noi abbiamo, secondo me, meritato la vittoria. E niente, devo dire che sono veramente orgoglioso e spero di continuare così. Invece una domanda, diciamo più una curiosità. È mai possibile che in un solo tempo ci siano stati forse una ventina di fuorigioco in prossimità della porta avversaria e questo poi riconduce anche una domanda magari sull'arbitraggio se ha qualcosa da recriminare oppure da sollevare. E poi per la prossima partita, adesso è tutta la testa lì. Sì, allora no, sull'arbitraggio non mi piace parlare perché può andare a volte bene a noi. Oggi ci è andata sfortunatamente male, però non mi piace parlare sull'arbitraggio. Può succedere degli errori come succede a noi, succede anche a loro. Sì, la testa adesso è già domenica prossima contro il Loreto che sarà un campo difficilissimo. Ci abbiamo giocato in Coppa, sono una squadra fortissima e quindi ci faremo trovare pronti. Se mi consenti di dire, vorrei fare un ringraziamento al mio preparatore atletico che ci permette di fare queste grandi prestazioni, Giacomo Castiglione. Veramente è un privilegio lavorare con lui e sono contento di quello che stiamo facendo al momento. Grazie per l'attenzione. Grazie. Grazie. Grazie.